Eva Enger sta meglio. Nei giorni scorsi la subrette attrice ha lasciato la clinica romana dove era stata ricoverata qualche settimana fa in seguito ad un terribile incidente in cui è rimasta vittima in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti. A un passo dalla morte, la 49enne si è sottoposta a svariati interventi chirurgici e ora dovrà affrontare una lunga convalescenza. Al momento, infatti, Eva Enger non può ancora camminare. È costretta ad indossare un tutore alla gamba e a muoversi in carrozzina. Così ha posato per un servizio fotografico per il settimanale Novella 2000, accanto a lei il marito produttore e imprenditore e la figlia di 13 anni Jennifer. Quest'ultima è viva per miracolo, doveva essere in macchina con i suoi genitori ma complice una punizione è rimasta fortunatamente a casa quel maledetto giorno. Alla rivista diretta da Roberto Alessi Eva Enger ha ammesso di sentirsi meglio anche se deve fare i conti con una quotidianità che non è la sua. L'ex moglie di Riccardo Schicchi è stata ricoverata per ben 47 giorni e oltre al dolore fisico ha dovuto fare i conti con momenti di depressione e ansia. Oggi Eva vive giorni in cui sente ancora molto dolore al trinquine sente meno. Eva Enger ha confidato, a volte ho tanto dolore all'osso sacro e al bacino. Invece quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati ad un centro commerciale a fare la spesa è stato bellissimo. Quel giorno stavo proprio bene, anche se stavo sulla carrozzina. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha confessato di piangere spesso per quanto accaduto ma soprattutto di commuoversi di continuo per le due persone, una coppia di anziani che hanno perso la vita nel terribile incidente. Eva ha assicurato che appena si ristabilirà del tutto si reccherà al cimitero per porgere dei fiori ai defunti. In più la Enger ha intenzione di andare col marito Massimiliano alla Vergine della Tre Fontane, sita a Roma, visto che la fede l'ha aiutata parecchio in questo periodo particolarmente duro. I coniugi sono molto credenti e quanto successo li ha legati ancora di più.